Sono 27 i palloncini che volano in cielo, accarezzando il campanile di Santa Sofia a Lendinara. 27 come gli anni di Gabriele Dallavilla di Lendinara, bianchi e rosa come il suo colore preferito. Ad alzare gli occhi al cielo e applaudire, intorno ci sono centinaia e centinaia di persone. E non sono che una parte di quelle che volevano bene al ragazzo, morto il 23 febbraio in un incidente stradale a Badia Polesine. Sul sagrato del Duomo il suo trattore, sul quale amava lavorare, e sopra i palloncini. E una grande foto che lo ritrae sorridente, maniche stringono foto che accarezzano il feretro, lacrime e abbracci. In chiesa, vicino al feretro, una sedia vuota, sulla quale c'è la felpa da lavoro del ragazzo. In terra, vicino all'altare, una maglietta con le firme degli amici. Ti vogliamo bene, Gabri, dice. All'esterno, una folla che riempie la piazza, che quasi ancora non ci crede che sia accaduto davvero. In chiesa, lo straziante e meraviglioso ricordo della famiglia. Sei stato un dono in tutto ciò che hai fatto. È la frase che arriva dall'altare. Poi, il feretro che esce, tra due ali di folla. Disperazione e amore, che diventano inscindibili. E alla fine, quei palloncini che volano in cielo. Addio, Gabriele. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.